Siamo arrivati a un metro del percorso, sappiamo la nostra capacità e la potenzialità, siamo qui a fare una grande partita, non siamo qui per fare all'interno, siamo qui per vincere, giocare bene e portare a casa una grande percorso, facciammi vedere che qualcuno di noi poteva essere lì. Dai ragazzi, uno, due, tre, parla!